I dati veneti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro dei primi due mesi del 2023 non sono affatto buoni e per quanto riguarda gli incidenti mortali risultano in controtendenza rispetto all'andamento nazionale. Lo affermano in una nota CGL Cisle Will del Veneto. Si registrano nel periodo gennaio-febbraio già 12 vittime, con un aumento del 33,3% rispetto agli stessi mesi dello scorso anno. A livello italiano invece c'è una riduzione del 12,28%. In incremento, secondo l'Inail, anche le denunce di malattie professionali, più 28,15%.